Il sindaco Marino Una tomba nella città teatro della tragedia delle fosse erdetine sarebbe come uccidere due volte quelle vittime, ha detto il presidente della comunità ebraica di Roma Pacifici. Ma l'avvocato del capitano delle SS ha lanciato la sua provocazione. Se non sarà possibile svolgere i funerali sono pronto a celebrarli in strada, ha detto, sapendo bene di mettere a rischio l'ordine pubblico. Immediata la replica del sindaco, qualsiasi occupazione di spazio pubblico sarà vietata. Per ora nessuna presa di posizione è arrivata dai suoi familiari ai quali spetterebbe in realtà la decisione finale. Riccardo Pacifici suggerisce quella che lui considera la soluzione più logica e cioè che le spoglie di Pripke facciano ritorno nel suo paese di origine, la Germania, lì dove ha indossato quella divisa delle SS che non ha mai rinnegato.